e viva il nonno, auguri a nonno, auguri a nonno, a nonno Roberto, a nonno Roberto, mi chiamo il bambino Roberto, a Tommaso, e viva Tommaso, Natalino anche Natalino, Tommaso Natalino è come il suo nome Tommaso, Natalino e Pasquale, bello, bene, bene, ancora qualche secondo, dai, su Facebook, dai, 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 due parole, con la torta, da mangiare, chi è che manca, chi è che manca, chi è che manca, chi è che manca stasera, dimmi, hai il vero Taschelli che va su Facebook per la prima volta? auguri nonnetto, ah, ancora, auguri eh, ah 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 ah, non ho la prima volta, non ho pagato il cacchio, sono un minato da poterla, mi hai detto a Dio che abbiamo avuto, no, è 1500 capi oggi di granse, non si poteva parlare del lavoro però, auguri, 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 che è tua, che è tua